Istologia, lezione 12. In questa lezione continueremo l'analisi delle ghiandole endocrine analizzando ipofisi ed epifisi. Abbiamo detto che il tessuto ghiandolare endocrino può essere classificato secondo diversi criteri e uno di questi è la distribuzione. In base alla distribuzione possiamo avere sistema endocrino diffuso e ghiandole endocrine propriamente dette. Le ghiandole endocrine propriamente dette sono proprio degli organi distaccati che servono a produrre degli ormoni, quindi sono proprio delle strutture che hanno la funzione di produrre queste sostanze. Sono diverse nel corpo, ce ne sono tante. Cominciamo ad analizzarle. La prima ghiandola che andiamo ad analizzare è la ghiandola ipofisi, detta anche ghiandola pituitaria. Si tratta di una struttura abbastanza piccola che viene accolta all'interno dell'osso sfenoide. In pratica questo osso sfenoide, che è un osso del cranio, presenta una depressione che viene chiamata sella turcica. All'interno della sella turcica è presente l'ipofisi. L'ipofisi, nonostante le dimensioni, si può probabilmente considerare la ghiandola più importante del nostro organismo. L'ipofisi è suddivisa in tre parti. L'ipofisi può essere suddivisa in tre parti. L'adenoipofisi, che è la parte anteriore. La neuroipofisi, che è la parte posteriore. E poi c'è la parte intermedia, che divide le due parti. Riguardo alla parte intermedia, si sa poco. Innanzitutto, questa parte non ha ancora una funzione che è stata ben definita. Si pensa possa avere una funzione etrofica, cioè di nutrizione, verso i melanociti, andando a produrre una sostanza, un ormone, che si chiama intermedina, con la sigla MSH. Partiamo con l'adenoipofisi. L'adenoipofisi è la parte della ghiandola anteriore e strutturalmente formata da cellule disposte a cordoni e a nidi. Le cellule dell'adenoipofisi possono essere essenzialmente di due tipi, cromofile e cromofobe. Quelle cromofile sono quelle che si colorano, quelle cromofobe invece non si colorano. Le cellule cromofile a loro volta si possono classificare in cellule acidofile e cellule basofile. Acidofile o PAS negative, cioè che non si colorano con la reazione PAS, o cellule basofile e PAS positive. Le cellule basofile servono per produrre gli ormoni adrenocorticotropo, l'ormone tireotropo, l'ormone follicolostimolante e l'ormone luteizzante. Quello invece, le cellule invece acidofile, producono l'ormone della crescita GH o STH e la prolattina. Eccessi, oppure misure diverse di questi ormoni, producono condizioni che possono essere patologiche. Riguardo alle cellule cromofobe, si sa ancora poco, si pensa che siano delle cellule staminali che evolvono poi in altri tipi di cellule. Alla microscopia possiamo notare come le cellule acidofile abbiano una colorazione appunto sul rosarancio, mentre quelle basofile una colorazione più sul bluviola. Ci sono invece le cellule cromofobe che non sono colorate, di cui è colorato solamente il nucleo, mentre il citoplasma rimane bianco, come è possibile vedere in queste altre immagini. Passiamo alla neuroipofisi, la parte posteriore. La neuroipofisi è formata da particolari strutture. Innanzitutto, occorre dire che le ghiandole, che gli ormoni prodotti dalla neuroipofisi in realtà non sono prodotti da cellule epiteliali, ma da cellule nervose. Infatti, la neuroipofisi è collegata al cervello fatto da cellule nervose e precisamente all'encefalo tramite l'ipotalamo. Dall'ipotalamo, in cui sono presenti i nuclei di alcuni neuroni, partono i dendriti che arrivano fino all'interno della neuroipofisi. Quindi i nuclei si trovano nell'ipotalamo, i dendriti si trovano all'interno della neuroipofisi. Quindi la neuroipofisi è formata principalmente da questi... è formata dai dendriti di questi neuroni e dai pituiti, che sono delle cellule, appunto, che hanno una funzione etrofica e di sostegno di neuroipofisi, produce due ormoni diversi. L'ADH, detto anche ormone antidiuretico, è l'ossitocina. L'ADH agisce sulle vie urinarie ed ha la funzione di assorbire l'acqua, quindi ha una funzione di riassorbimento dell'acqua. L'ossitocina svolge invece una funzione su due gruppi diversi di cellule, sia sulla muscolatura dell'utero, sia su... invece sugli osteoblasti. Nel primo caso stimola la muscolatura liscia dell'utero alla contrazione al momento del parto. Nel caso invece degli osteoblasti stimola queste cellule per la produzione di tessuto osseo. Altra differenza sta nell'origine di questi due ormoni. Infatti, questi ormoni vengono prodotti dai corpi cellulari di alcuni neuroni ipotalamici. Quindi, i neuroni arrivano fino alla neuroipofisi. I corpi invece sono presenti nell'ipotalamo. Ora, i corpi, che vengono chiamati pirenofori, ovvero appunto i corpi di questi neuroni, sono di solito raggruppati in nuclei in base alla loro funzione. I nuclei dei neuroni, in cui sono appunto presenti i neuroni, che producono l'ADH, sono i nuclei sovraottici. Quelli invece dell'ossitocina sono i nuclei paraventricolari. Analizziamo alcune immagini di microscopia. La neuroipofisi appare nel complesso più chiara. Questo perché, innanzitutto, è formata da meno cellule, quindi sono presenti nuclei in numero inferiore. Inoltre, questa zona è occupata principalmente da neuroni. I neuroni o si colorano e quando si colorano, si colorano poco, oppure non si colorano a causa della guaina mielinica. I nuclei sono quindi più radi. E in questo caso è possibile anche notare dei neuroni che sono stati colorati con colorazioni specifiche. Concentriamoci tuttavia sugli ormoni che vengono prodotti dall'ipofisi. Abbiamo visto che l'adenoipofisi produce il TSH, tireotropo-tireostimolante, che stimola la tiroide a produrre T3 e T4. Produce la prolattina, che stimola la mammella nella produzione del latte. L'adrenocorticotropo, che va a stimolare la corticale del surrene. L'LH e l'FSH, che invece vedremo con l'embriologia, agiranno sugli organi sessuali. Il GH, detto anche ormone somatotropo, ormone della crescita, che serve per la crescita di grasso, ossa e muscoli. La neuroipofisi produce ADH e ostitocina e la parte intermedia, l'MSH. Quindi questi ormoni agiscono su diverse parti del corpo umano, quindi hanno un'azione con un raggio molto elevato. Questa ghiandola quindi controlla diversi aspetti dell'organismo. Quindi a monte deve essere una ghiandola finemente controllata. La denoipofisi tuttavia funziona diversamente dalla neuroipofisi. Per quanto riguarda la denoipofisi, l'ipofisi comincia a produrre appunto in seguita degli stimoli del sistema nervoso. Questi stimoli vanno a stimolare alcune cellule dell'ipotalamo che producono due tipi di ormoni. Gli RH, releasing hormones, e gli IH, inhibiting hormones. Questi ormoni hanno una funzione specifica, cioè ci sono degli specifici ormoni per ogni ormone dell'adenoipofisi. Quindi ci saranno i releasing hormones per il GH, i releasing hormones per il PRL, insomma diversi ormoni. I releasing hormones stimolano l'adenoipofisi a produrre gli ormoni ipofisari. Gli inhibiting hormones invece stimolano l'adenoipofisi a smettere la produzione, accessare la produzione di ormoni ipofisari. Quindi hanno due ruoli antagonisti. In seguito all'azione dei releasing hormones, l'adenoipofisi va a produrre gli ormoni ipofisari. Per quanto riguarda invece la neuroipofisi, sempre in seguito a stimoli del sistema nervoso, vengono stimolate le cellule nervose dell'ipotalamo. Tuttavia abbiamo visto che queste stesse cellule che hanno i nuclei nell'ipotalamo sono le cellule che, diciamo, producono gli ormoni della neuroipofisi. Quindi in seguito allo stimolo di queste cellule nervose dell'ipotalamo si producono direttamente gli ormoni neuroipofisari. Attenzione! Abbiamo detto che l'ipotalamo stimola l'ipofisi nella produzione degli ormoni ipofisari. Prendiamo il classico esempio della tiroide. L'ipotalamo produce il TRH che è un releasing hormone che stimola l'ipofisi a produrre il TSH, l'ormone tiro-stimolante. In seguito alla produzione di TSH, la tiroide produce T3 e T4 che sono i suoi principali ormoni, i principali ormoni tiroidei. T3 e T4 svolgono delle funzioni su tutto l'organismo. Una parte di T3 e T4 vanno tuttavia a stimolare nuovamente il, diciamo, l'ipotalamo. L'ipotalamo viene stimolato da T3 e T4 e produce questa volta degli inibiting hormones. Questi ormoni vanno a bloccare l'azione dell'ipofisi. In questo modo l'ipofisi smette di produrre TSH e quindi cessa anche la produzione di T3 e T4. Quindi l'ipofisi, tramite questo meccanismo, è riuscita a bloccarsi nella produzione di ormoni. Questo meccanismo si chiama feedback. Il feedback consiste nell'azione dell'ipofisi di una ghiandola nel produrre delle sostanze che vanno ad agire su se stesso. Il feedback è un messaggio che parte da una specifica posizione e ritorna a quella posizione, a quella stessa posizione. In questo caso è un feedback negativo perché l'azione del feedback serve per indurre, diciamo, uno stop, un blocco della produzione ormonale. Quindi in questo modo la stessa ipofisi viene bloccata in seguito al suo stesso effetto. L'ipofisi nel corpo quindi ha un'importanza fondamentale e delle variazioni degli equilibri degli ormoni ipofisari possono causare diversi stati patologici. Un esempio è la diminuzione di ADH. L'ADH, l'ormone antidiuretico, ha la funzione di permettere l'assorbimento di acqua all'interno del corpo. Se non è presente l'ormone antidiuretico, una conseguenza è il fatto che molti liquidi verranno espulsi perché non vengono appunto riassorbiti. Quindi, come prima conseguenza, si ha innanzitutto una disidratazione del corpo perché i liquidi vengono eliminati. Seconda conseguenza, il fatto che si sentirà un bisogno maggiore di urinare, poiché appunto i liquidi devono essere eliminati. Una patologia che deriva dall'abbassamento del livello di ADH è appunto il diabete insipido. L'acqua viene eliminata e quindi il paziente sente un, prova un senso di disidratazione. Questa disidratazione porta il paziente ad assumere addirittura fino a 15 litri di acqua. Tutta quest'acqua, tuttavia, verrà eliminata tramite appunto l'urina. Quindi questo è il diabete insipido causato dalla presenza minore di ADH all'interno del corpo. Altre condizioni patologiche si verificano in seguito ad un aumento della prolattina. Questa condizione, diciamo, risulta avere delle conseguenze differenti rispetto al sesso femminile o maschile. Nella donna questo tipo di patologia può causare innanzitutto galatorrea oppure amenorrea. la galatorrea corrisponde ad una perdita incontrollata di latte dal capezzolo femminile, mentre la menorrea, il blocco, l'assenza di ciclo mestruale mensile. Nell'uomo, invece, questo aumento di prolattina causa o ipogonadismo, cioè uno sviluppo minore delle gonadi, uno sviluppo minore di testicoli, in pratica, oppure può arrivare addirittura all'infertilità. Vediamo cosa succede nel caso dell'aumento di adrenocorticotropo. L'adrenocorticotropo è un ormone ipofisario che è coinvolto nel metabolismo dei glucidi. Infatti, stimola il surrene nella produzione di glicocorticoidi. Un aumento di questo ormone ipofisario causa la sindrome di Cushing, che è una condizione che provoca nel paziente un aumento di peso che può essere addirittura quasi smisurato. Un abbassamento del GH provoca, invece, il nanismo ipofisario, una condizione per cui le ossa, i muscoli, non crescono, per cui l'organismo rimane di dimensioni ridotte. La condizione opposta è nota, invece, come gigantismo ipofisario o acromegalia, cioè la crescita delle estremità, per cui, appunto, l'organismo subisce una crescita incontrollata delle ossa, dei muscoli, per cui assume, appunto, delle caratteristiche quasi da gigante. Analizziamo la seconda ghiandola endocrina, propriamente detta, che è l'epifisi. L'epifisi è situata, appunto, nell'epitalamo, che è una struttura del cervello. Strutturalmente, l'epifisi è costituita da alcune cellule, chiamate pinealociti, dall'epifisi che viene detta ghiandola pineale, che sono organizzati in cordoni. Tra queste cellule, che formano il parenchima, sono presenti le fibre reticolari di connettivo. Le cellule dei cordoni, cioè i pinealociti, si uniscono e formano delle aree calcifiche. L'epifisi ha un effetto regolatore del ritmo sonno-veglia. Innanzitutto, la stessa attività di questa ghiandola viene influenzata dai ritmi di luce e giorno. Durante il giorno, l'organismo produce una sostanza che si chiama serotonina. La serotonina viene convertita, durante la notte, proprio dall'epifisi, in melatonina, che ha una funzione totalmente opposta. Durante il giorno, poi, ci sarà un eccesso di serotonina rispetto alla melatonina. Quindi, di giorno è presente più serotonina. Di notte è presente maggiormente la melatonina, che viene prodotta dall'epifisi. Quali sono le funzioni di questi due ormoni? La serotonina causa, in generale, buon umore. La melatonina, invece, può arrivare a causare addirittura depressione, quindi hanno un effetto opposto. La serotonina serve a una funzione di tolleranza al caldo. Quindi, ha questa funzione che, invece, la melatonina ha come funzione opposta. La melatonina ha una funzione opposta della serotonina anche in relazione al cibo. Infatti, la serotonina è responsabile della diminuzione del senso di fame. La melatonina, invece, è dell'aumento. La serotonina è un ormone che stimola l'eccitazione sessuale, mentre la melatonina inibisce l'eccitazione sessuale. Inoltre, la serotonina è, in generale, l'ormone che permette al corpo di stare sveglio. La melatonina, invece, svolge la funzione contraria. Vediamo una sezione di epifisi. Questa ghiandola presenta le caratteristiche aree calcifiche che, appunto, derivano da zone di ammassi cellulari. Queste aree calcifiche, che hanno un aspetto quasi vetroso, sono un aspetto caratteristico dell'epifisi. Grazie a tutti.